Epiaging propone con questo position paper una nuova visione della vaccinazione dell'adulto e dell'anziano. La pandemia Covid e la vaccinazione, il Covid ci ha insegnato qualcosa che sarebbe incredibile sprecare. Innanzitutto chiediamo che ci sia una sensibilizzazione di tutti gli adulti, gli anziani, non soltanto al vaccino Covid, ma anche a quei vaccini come l'antinfluenzale, l'antipdemococcica, l'anti-herpes zossero, fuoco di Sant'Antonio, o il richiamo di difterite tetano per tosse, che sono vaccini altrettanto importanti, livelli essenziali di assistenza, ma che hanno ancora in Italia delle bassissime percentuali di copertura vaccinale. Quindi noi chiediamo che ci sia una chiamata attiva da parte delle regioni, delle ASL, dei medici, per aumentare questa partecipazione a questo importante presidio di prevenzione. e chiediamo anche che ci sia più maggiore facilità ad arrivare alla vaccinazione. Abbiamo imparato che non è necessario vaccinare solo in ambulatorio, si può vaccinare anche in palazzetti dello sport, si può vaccinare presso i centri specialistici. Abbiamo visto come sia importante vaccinare nei centri specialistici come abbiamo fatto nei soggetti ad alto rischio. Questa è la principale proposta che noi facciamo agli enti e alle istituzioni. La pandemia Covid ci ha dimostrato anche come sia fondamentale un'anagrafe vaccinale nazionale. Noi purtroppo non abbiamo ancora le coperture reali per le vaccinazioni dell'anziano, tranne quella per l'antinfluenzale. Possiamo invece vedere, l'ha dimostrato adesso il Ministero con l'anagrafe nazionale per la vaccinazione Covid, che è possibile monitorare quotidianamente anche come va la copertura vaccinale, come va la campagna vaccinale. Noi chiediamo che questa anagrafe sia finalmente istituita non solo per il vaccino Covid, ma per tutte le vaccinazioni, per poter monitorare quello che succede in ogni parte d'Italia, perché c'è un diritto, un livello essenziale di assistenza, purtroppo ancora troppo negato in troppe parti della nostra Italia. E Paging lancia anche una campagna di informazione, perché purtroppo manca molto spesso nell'adulto e nell'anziano la percezione del rischio di una malattia. Ancora si considera troppe volte l'influenza di una malattia banale, mentre invece purtroppo non è così, soprattutto per gli anziani o per chi ha delle patologie. Per esempio la polmonite da primo cocco, ma si può curare con gli antibiotici, invece purtroppo non è così, perché c'è una fortissima antibiotica d'esistenza. Il fuoco di Sant'Antonio e Arpers Zoster viene poco conosciuto, così non si conosce per esempio l'effetto ancora della pertosse, che soprattutto nei soggetti broncopatici o asmatici provoca delle frequentissime riacutizzazioni. Quindi informare la gente affinché ci sia una percezione del rischio delle malattie e la percezione anche dei vantaggi che i vaccini hanno in questo senso.